La scorsa settimana i carabinieri della compagnia di Chioggia a bordo della moto vedetta 803 hanno sorpresi in Riviera Caboto nel quartiere Tombola un 71enne di Chioggia intento sistemare ceste in plastica contenenti molluschi. L'uomo è stato fermato e identificato in quanto in possesso di 20 ceste contenenti 6 quintali di vongole veraci, alcune già caricate nel bagagliaio della sua vettura. Le vongole erano prive dei documenti di registrazione per bivalvi necessario e l'intracciabilità della filiera, oltre che dell'autorizzazione sanitaria al trasporto di alimentari. Pertanto il Chioggia è stato multato con 2.000 euro di sanzione amministrativa. Le vongole, dal valore complessivo di 5.000 euro, sono state sequestrate e rigettate in laguna dal momento che risultavano ancora vive. L'attività dei militari continuerà a prevenire e a reprimere le violazioni in materia di igiene e trasporti illecito dei prodotti ittici.